TV Games, plug it in and play! La sala giochi a casa tua! Lo colleghi direttamente alla TV e giochi subito! Con l'originale joystick da sala giochi, il divertimento è totale! Cinque giochi inclusi! Con Pac-Man tutto è possibile! E con Spider-Man diventi tu il vero protagonista! TV Games, la sala giochi a casa tua! O dove vuoi... TV Games, plug it in and play! La sala giochi a casa tua! Lo colleghi alla TV e giochi subito! Col Joystick Disney hai cinque giochi inclusi! Paperino, Aladino, Lino e Stitch! E i videogiochi del famoso Ray Leone! Dai, lasciati conquistare dal mondo Disney! E con SpongeBob, la simpatica spugna marina, il divertimento è totale! Anche sotto i mari! TV Games, la sala giochi a casa tua! O dove vuoi tu! Non farne a meno!